12 maggio 2016 e mi trovo ad Albariate, Albairate, in provincia di Milano, quindi siamo un po' distanti e questa è la posizione dove è stata fatta una delle prove sismiche per il progetto di costruzione di un nuovo fabbricato per questo bellissimo agriturismo appunto ad Albairate, abbiamo qui il nostro factotum che non vuole farsi riprendere, allora in questa zona caratteristica perché abbiamo un primo strato di circa 2-3 metri di spessore con dei terreni che sono limosabbiosi, poco permeabili e questo permette la coltivazione di risaie siamo nella parte a nord della Lomellina al confine con l'alta pianura caratterizzata invece da sedimenti di tipo più ghiaiosi la falda acquifera è prossima alla superficie, nel periodo invernale quando non viene distribuita l'acqua dai consorzi di bonifica la falda è profonda circa 2-3 metri, mentre dopo la distribuzione delle acque da parte dei consorzi che gestiscono la rete idrica artificiale l'acqua risale nel sottosuolo fino a circa mezzo metro e quindi abbiamo un'abbondanza di acqua, una presenza di acqua diciamo molto prossima al piano del calpestio dopo le prove sismiche verrà fatta la prova penetrometrica ecco vediamo l'orizzonte, i fabbricati dell'agriturismo questo è tutto